Lo aveva annunciato e lo ha fatto. Questa mattina Mauro Di Dalmazio ha presentato i due assessori della sua giunta in caso di vittoria delle elezioni. Si tratta di Fausta Di Berardo e Mauro Carnovale. Intanto quali deleghe avrebbero? Prima delle deleghe è necessario spiegare una cosa, è un patto di trasparenza, di fiducia anche con l'elettorato che si chiede quando si fa una proposta. Abbiamo e ho la possibilità di costruire la squadra che voglio senza vincoli, quella migliore per competenze e funzionalità che ritengo rispetto al progetto e al programma. E quindi credo che sia un atto assolutamente di trasparenza, già indicare alcune delle professionalità che hanno dato la disponibilità ad occuparsi di settori per me essenziali. Perché sia la dottoressa Fausta Di Berardo sia l'avvocato Mauro Carnovale si andranno a recuperare di settori che hanno un'importanza strategica in quanto trasversali a tutta l'attività della pubblica amministrazione e dell'attività di governo. Da un lato Fausta Di Berardo per le sue competenze specifiche si occuperà di accessibilità e inclusività. Stesso dicasi per l'avvocato Mauro Carnovale che si occuperà di semplificazione, trasparenza, legalità e che dovrà dare principalmente seguito e attuazione alla delibera commissariale con la quale è stato approvato il piano triennale anticorruzione, il programma anticorruzione, l'integrità e della trasparenza, anche lì in un'ottica assolutamente trasversale sulle procedure. Bisogna dare attuazione a questo piano che diventerà anche la linea guida dell'impostazione che ci sarà, che riguarderà non soltanto gli appalti, ma tutte le procedure. Volti nuovi della politica terramana? Volti assolutamente nuovi, sono due persone, due professionalità, due competenze che nei loro ambiti hanno sviluppato un impegno anche civico, hanno condiviso il progetto, svolgono le loro attività a Teramo e per Teramo e quindi hanno deciso di mettersi in gioco per portare il loro contributo a un progetto civico che veda Teramo veramente al centro di ogni tipo di discorso. Il resto della squadra in caso di vittoria è pronto? Io ho già alcune disponibilità acquisite, ci sono dei settori fondamentali sui quali io vorrò intervenire, che sono principalmente i settori delle finanze, del bilancio delle partecipate, il settore della rigenerazione urbana e il settore della cultura, che sono strategici della cultura e del sociale, che sono settori strategici, insieme agli altri sui quali io sto già facendo delle riflessioni importanti per la partecipazione di personalità e competenze di livello, che sappiano però al di là delle competenze, che abbiano la voglia di partecipare, di contribuire, di metterci la faccia per un progetto di crescita di terra.